Nello specifico il servizio si è svolto nel seguente modo, avevamo appunto sotto controllo la zona del bilancio Concordi, in particolare la via dell'intervento e il via marchio redettivo. Qui è stato notato un giovane che si è incontrato con una persona che praticamente, dalla nostra lettura, era una lancia che avevamo sottosto. Due giovani più di uno, poi però un terzo è realizzato estraneo infatti. Due hanno infabulato il stesso soggetto, il quale poi ha abbandonato l'autovettura, la parte già ed è salito presso il suo domicilio perché la persona è salita in casa. Abbiamo ritenuto quindi opportuno intensificare il servizio, l'observazione, la persona è poi riscesa poco dopo lo suo appartamento, si sono gli stessi di nuovo incontrati all'interno dell'autovettura. Qui dopo un breve cambio, che noi abbiamo tenuto comunque sott'occhio, il terzo dell'autovettura è ritornato per l'ennesima volta presso il suo domicilio e gli altri due si sono allontanati. Qui è scalzato in blizze perché abbiamo bloccato il gatto. Uno dei due non è il risultato che è il risultato del tutto estraneo infatti, mentre sull'altro occultato all'ingenitare abbiamo trovato circa 27 grammi di madretina, quindi 1 grammi di 60 scupefacente marijuana, che è questa qua. Nell'indumento intimo diciamo. Nell'indumento intimo, lo stesso comunque l'ha consegnata dopo vistosi comunque scoperto. Ovviamente su questo sequestro è stato poi come al solito sicurato un narcotest del miso della polizia scientifica che è dato immediatamente il risultato positivo, quindi abbiamo subito il risponto che si trattava di secondo duecenti del tipo marijuana. Queste sono due le scienze marijuana che sono già essiccate, sono pronte ad essere consumate insieme al tabacco e per quanto riguarda il consumo. Il valore è più o meno 250 euro di quello che abbiamo trasportato. Nel proseguo dell'attività si è proseguito un permesso sempre di appostamento, dopodiché nel momento in cui il sospetto spacciatore a questo punto è sceso dalla propria amministrazione pochi minuti dopo è stato bloccato e nella posizione domiciliare effettuata in via marchio evolutivo a carico del secondo soggetto è stata rivenuta e sequestrata ulteriore soltanto al proprio paciente che nel dettaglio è la seguente. Allora abbiamo circa 17 grammi confezionati all'interno di questo pacchetto, poi il bilancino di precisione, i due tortelli, queste dosi già confezionate di marijuana pronta all'uso.